Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di martedì. Si va ulteriormente rafforzando il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e in generale sull'Europa a garanzia di tempo stabile e soleggiato sul nostro paese. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio cosa dovremo attenderci dal punto di vista della nuvolosità. Vediamo cieli ovunque sereni o poco nuvolosi da nord a sud, qualche addensamento ancora possibile in particolar modo sulle due isole maggiori. In definitiva ecco la previsione per la giornata di martedì. Al nord cieli sereni o poco nuvolosi al centro e al sud, tempo stabile e soleggiato ma con qualche addensamento in particolar modo sulla Sardegna orientale. Le temperature sono in generale rialzo, specie al centro-sud dove potremo toccare punte di 19-20 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.